just a few seconds just a few seconds zone station action baby album degli U2 prima abbiamo sentito pezzi di One questo è il primo zone station sarà un video breve ieri sera tra le persone con cui ho parlato c'era anche uno che è un sedicente non so se la fa ancora ha detto che faceva sicurezza forse la fa ancora non lo so tra l'altro un vecchietto come me un anno meno di me e poi tra i vari discorsi dice che ha preso una coltellata eh si ma cioè scusami tu fai sicurezza e ti prendi una coltellata e qualcuno potrebbe dire eh può capitare può capitare può capitare no vuol dire che non sai fare il tuo lavoro cioè devi proteggere gli altri e poi quindi a parte che fare sicurezza nei locali i locali già sono una stronzata e e quelli dove c'è bisogno di sicurezza sono ancora più una stronzata e poi ti fai dare anche una coltellata eh insomma dai l'uomo nasce debole e delicato muore rigido e forte e duro scusate l'albero l'albero nascere flessibile e tenero muore inflessibile e forte così rigido e robusto sono i modi della morte debole e flessibile sono i modi della vita l'esercito vittorioso è quello che non ha mai combattuto l'albero forte viene abbattuto grande e forte sono in basso dolce e flessibile sono in alto detto questo buonanotte amici miei